Calci e pugni assestati con cattiveria dopo una discussione in un parco di Este, in 5 contro 1 e 1, 50 anni, italiano, la sera dell'11 settembre ebbe la peggio. 20 giorni di prognosi per contusioni multiple fu quanto stabilirono i medici del pronto soccorso di Monselice. Le indagini dei carabinieri di Este, coordinate dalla Procura della Repubblica di Rovigo, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza e all'ascolto di alcuni testimoni, hanno permesso di identificare e denunciare i 5 aggressori. Tutti giovani e italiani, due dei quali minorenni, per minaccia aggravata e lesioni personali. A casa di un 18enne è stato sequestrato un involucro con 6 grammi di hashish, una carta di identità rilasciata dal comune di Este risultata contraffatta e un'arma giocattolo riproducente una pistola semi-automatica. Il 18enne è stato quindi ulteriormente denunciato per falsità materiale e segnalato al prefetto di Padova per detenzione di stupefacenti per uso personale.